E' nell'ambito della famiglia che si esercita in maniera privilegiata il sacerdozio battesimale con la partecipazione ai sacramenti, con le preghiere e il ringraziamento. E' qui che si apprende la fatica e la gioia del lavoro, l'amore fraterno, il perdono generoso. Possiamo prendere come esempio, come testimonianza di vita, la realtà di Bernadette che sappiamo che era una contadina, non aveva grande istruzione, sapeva bene il Padre Nostro, la Maria Maria e Gloria Padre e possiamo dire anche il credo. Famiglia povera, niente di importante, un tavolino in casa, un tegame, il papà lavoratore che fu accusato anche ingiustamente, messo in carcere, accusato di ladrocinio e poi risultò dopo una settimana innocente e fu lasciato libero. Bernadette quindi viene scelta dalla Madonna. Per il Signore Dio non è l'intelligenza, non è la ricchezza delle cose materiali che spingono Dio a scegliere una persona. Dio sceglie chi è disponibile a collaborare con lui anche nelle poche cose e con le esigenze minime. Oggi noi sappiamo però che la realtà della famiglia è una realtà molto cruda. Se noi abbiamo accennato che Bernadette viveva in una famiglia, una casa povera o poverissima, dobbiamo dire che la situazione attuale non è molto differente, non per la mancanza delle cose materiali, ma per la perdita piano piano della fede, il che significa aver minato la famiglia nella sua esistenza. Quindi abbiamo la famiglia in crisi, ce lo interroghiamo noi questo problema, c'è questo pericolo. Quali sono le cause? La povertà, la ricchezza, il permissivismo? Quali rimedi? Quali impegno della famiglia nella società? Come arginare la mentalità divorzista e abortista? Tutti i sistemi educativi sono posti in discussione e varie possono essere le cause del grino dell'impegno educativo, della famiglia, avvento dei mezzi di comunicazione sociale e noi sappiamo molto bene che Padre Pio sin dall'inizio si chierò contro la televisione, non perché fosse un retrograde, ma perché ne immaginava le difficoltà che sarebbero nato. Difatti dal rosario detto in casa tutte le sere di quasi tutte le famiglie si passa alla televisione sempre accesa che parla di tutto, anche di cose sbagliate e anche di cose che sono anti educative. Quindi allora si riscontra nelle famiglie un disimpegno educativo? Qual è la collaborazione con i sacerdoti, con gli insegnanti a scuola, con gli insegnanti a scuola? Si parla in famiglia della vocazione sacerdotale e religiosa. L'avvenire ce lo facciamo noi oggi se mettiamo le basi di un cammino spirituale, è certo che le cose andranno meglio, altrimenti bisognerà rassegnarsi. La diversità è una ricchezza perché non diventi contrasto. Francesco d'Assisi comprende e perdona, sopporta le difficoltà che gli vengono dai frati. Padre Pio ugualmente si preoccupa di formare una famiglia servendosi anche di battute scherzose. È importante questa sottolineatura. Padre Pio ci teneva tanto che nella comunità, nella famiglia religiosa e quindi nelle famiglie normali ci fosse la gioia, la serenità. Ma principalmente sopportava per il loro bene quelle persone che gli facevano del male o addirittura lo calunnavano. Sopportava e perdonava e amava. Sopportava e amava. Grazie a tutti.